Buongiorno a tutti, benvenuti alla Giornata Italiana della Statistica, organizzata dall'Istat della Società Italiana di Statistica e giunta quest'anno alla quarta edizione. È un'iniziativa che nasce in ideale continuità con la Giornata Mondiale della Statistica, svolta per la prima volta dalle Nazioni Unite il 20 ottobre del 2010, con l'intento di rafforzare la visibilità nella società dell'intero sistema delle statistiche ufficiali per il nostro Paese e per l'Europa e per promuovere la cultura statistica. In particolare l'idea è quella di accrescere la visibilità della ricchezza della qualità della produzione statistica da parte dei soggetti del Sistema Statistico Nazionale e di sottolineare la fiducia che si debba avere nella statistica ufficiale prodotta da un istituto di statistica indipendente, autonomo nella scelta dei metodi e delle tecniche che rispondono soltanto a criteri scientifici e che sono soggette a un rigoroso controllo da parte delle autorità europee. Dimostrare l'utilità delle informazioni statistiche per i cittadini, le imprese, le istituzioni, il valore aggiunto dell'utilizzo dell'informazione statistica per tutte le componenti della società. I cittadini, per sapersi orientare nel diluvio dei dati al quale sono sottoposti, di saper compiere scelte più consapevoli nella vita quotidiana o in occasioni più importanti, quale la scelta ad esempio di proseguire i propri studi, di scegliere un liceo piuttosto che un altro, una facoltà universitaria e ancora per un esercizio effettivo della democrazia, sapendo meglio valutare i risultati delle azioni di chi ci governa. D'altra parte è importante per le imprese che possono così meglio competere, scegliendo al meglio la loro localizzazione, i mercati o i partner e valutare la profittabilità dei loro investimenti nell'innovazione o in processi di internazionalizzazione. E le istituzioni naturalmente chiamate a misurare e a rendicontare i livelli di servizio che assicurano ai cittadini, per non parlare della politica che potrà, grazie alle informazioni statistiche, saper scegliere meglio quali siano le priorità valutando ex ante o ex post i risultati della propria azione. In particolare per promuovere la consapevolezza della statistica è importante anche promuovere le competenze statistiche minime per i cittadini, il valore aggiunto che possono dare le competenze statistiche nei percorsi formativi o professionali dei cittadini. La bellezza è il fascino della professionalità statistica, della disciplina che sulla base di una grande molle di informazioni consente di fare scelte, consente di poter leggere fenomeni complessi, rispondendo anche a problemi complessi. E in particolare una disciplina che viene tradizionalmente vista come molto tecnica, teorica, che invece nasce, si sviluppa e si applica a partire da esigenze molto concrete, che offre soluzioni a problemi reali. E in generale l'idea è anche quella di promuovere il riconoscimento della professionalità statistica. Questi sono tanti obiettivi importanti che ci poniamo di conseguire anche attraverso questa giornata italiana della statistica. Il tema che abbiamo prescelto quest'anno di approfondimento è quello dell'integrazione dei dati e la valutazione degli effetti delle politiche sul territorio. Ed è un tema particolarmente adatto alla declinazione di iniziative concrete di promozione e rafforzamento della missione dell'Istituto Nazionale Statistica nella buona amministrazione del territorio. Ringrazio ancora quanti hanno promosso e partecipano a queste belle iniziative e vi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro.